Allora, vediamo un po' come uscire da questa situazione Dunque, avevo detto che dobbiamo andare su di qua Per forza Quindi Aspetta Sì, quando parlava lui, ok, ok Aspettate Eh, quando loro parlano Non guardano questo cappello di paglia Quindi possiamo Ok, aspetta, avviciniamoci Aspetta, eh Ok, adesso No, ci ho messo troppo Aspetta Ci ho messo troppo Aspetta un attimo Ok Portiamolo Qua Ok Perfetto E uno è andato Sì, direi che la strada È meglio questa qua Vado su di qua Poi aspetta Perché Manca lui Ah, manca lui Però Allora, non possiamo prenderli insieme Perché c'è questo qua che guarda Però potrei Allora, usiamo Yuki Questi Questi li possiamo attirare Perciò metto una trappola qua Vediamo, eh Vedrà anche le impronte Aspetta Aspetta Ah, devo rifare Eh, devo rifare tutto Un attimo Un attimo Allora Abbiamo detto Aspetta, eh Ok Così Perfetto E Lo portiamo qua Ok Ma Lui Guarda Cioè, se è illuminata la zona Vede Allora lo devo attirare un po' più in qua Con Yuki Per sicurezza Metto tipo la trappola Qui Vai, vai E non dovrebbe vederlo Dove essere fuori Esatto Aspetta, eh Vediamolo Vai Questo non dovrebbe darmi fastidio Visto che è amichevole No, non ti fermo Eh, si ferma qua Oh Adesso piano piano Li attiriamo tutti così Ok Ok Allora Ci avviciniamo Direi Esatto Fino qua E mettiamo una bella trappola Poi Sfruttiamo le impronte Ok Non ho capito perché la torcia si spegne solo quando ci avviciniamo Adesso salvo Anzi salvo subito Ok Oh, è piano piano Stiamo facendo fuori tutti Ma il travestimento Io quasi quasi Potrei anche non prenderlo Che fammi vedere No, non qui No, dov'è che era la cara Ok Qua Vabbè oddio Qua non c'è nessun samurai In effetti A parte all'entrata Però No, quasi quasi non lo prendo Perché devo estordire la civile Mi dà fastidio Estordirla e poi buttarla penso nel pozzo E mi sa che muore Quindi Mi dà fastidio Allora Facevamo con Yuki Mettiamo una bella trappola Qua Ok 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 Vai Fatti seguire Ok Oh, perfetto Adesso Prendiamo lui E andiamo Andiamo qua Anzi andiamo qua Stiamo un po' più No Il corpo Nascondiamo lì Andiamo qui E andiamo qui Ok Qua c'è un samurai Qua è tutto illuminato E non possiamo spegnere la La torcia Qua ci possiamo arrampicare Però poi ovviamente Dobbiamo far passare anche Takuma Adesso vediamo Yuki Andiamo qua Ok Ok Salviamo Allora Eh, lui si muove Si muove un po' di qua Un po' di là Va bene Tre a tirarlo Questo Però Oddio Beh no Un'altra tecnica Ci sarebbe Però devo farlo Quando il samurai Non c'è Per esempio Vediamo la portata Che ha È molto ridotta Direi Molto ridotta Sì Posso attuare Quello che ho in mente Allora Posiamolo No Non è più per i soldi Aspetta Aspetta che sta tornando Un attimo Stiamo fermi Un attimo Non deve vederci Qui Così le impronte vanno via Dobbiamo essere Rapidi Ok Allora Io direi Vicino possibile Ok Lei Becca lui E lui Ok Portalo via Oh merda Ma visto Aspetta 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 Che la tecnica C'è E la tecnica È giusta Però Devo essere Molto più veloce Guarda Quando lui Ok Adesso Ok Ok Prendilo E Aspetta Portalo qui Invece tu Prendi lui E lo porti Qua No Prendi lui Anzi Portalo qua Speriamo che le impronte Si cancellino Si Si stanno cancellando Ok Aspettiamo Perfetto Perfetto Così adesso Li portiamo via Portiamoli qua Ok Allora Beh L'ideale è fare così Anche per il samurai Alla fine Quasi Quasi Così poi Takuma Può passare Takuma Quanti Ah Cinque colpi Quasi Quasi Gli altri Due colpi Due Tre Facciamo così Usiamo Takuma Va E Hayato Lo mettiamo qua Ok Anzi forse Vabbè Salviamo così E' perché Lui vede Lui vede Quindi Hayato Non va bene Alla fine Aspetta un attimo Meglio Aiko Usiamo Aspetta Ok Appena è a portata Ok Perfetto Io lo lascerei qua Quasi Quasi Oh Così il samurai Non è più un problema Con questi Vabbè Possiamo Con quelli più agili Possiamo passare Di qua E andare Fino qui Sì Fino al carretto Qui c'è Un nemico Ah qua ce n'è un altro Ah sono in due Che guardano Qua Ce n'è uno Che si muove Se spengo La torcia Sicuramente Uno Forse so Cosa devo fare Però Eh Questo guarda Tutto Sono in quattro Alla fine Che danno Problemi Adesso vediamo Vediamo Però Takuma In ogni caso Deve passare Di qua È vero E anche un altro Per trasportare Lui Eh A meno che Liberiamo Prima il campo Però qui Sono in due E qua c'è un civile Che non c'entra niente Poverina Eh Però mi sa Che Non posso fare Altrimenti Provo a stordirla Rubargli i vestiti A un certo punto Mi sa che non ho scelta Dovrei Allora Aspetta Salviamo Magari Magari Attirarli O Attirarli Con Solo le guardie Fammi fare una prova Per vedere Chi viene Se io attiro Solo Così Per esempio No Vedere Ah Tutti e tre Ah Però solo Ok Ok No Tutti e tre Vengono Però solo Le guardie Ok C'è Cacciano le impronte Quindi Potrei Aspetta Tipo Allora Aspetta Questo Lo prendiamo Mettilo qua Qua Possiamo Predisporre Una trappola E faccio Sì Che con le orbe Mi seguono Poi Facciamo Che Esatto Sperando Che sia Lui A finire Il primo A finire Nella trappola Con Aiato Stiamo Lì E vediamo Vediamo Se funziona Allora Come prima Allora Ok Non è Non è finito Non sono finiti Nella trappola Maledizione Aspetta 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 Li facciamo Oh Stavolta Mi è venuto Subito Allora Aspetta Un attimo Ci ho messo Un po' Signorina Aiko Tiragli un cazzotto Ecco Andiamo un po' Ok Eh Però Questa è Stordita Se la metto Nel pozzo E ho preso I vestiti Ma se la metto Nel pozzo Affoga Mi pare Oddio Non ne sono sicuro Perché anche Altre volte L'ha messa Nel pozzo Vabbè Senti Mettiamola Nel pozzo Andiamo Ok Vediamo un po' Ok Cioè Nel pozzo Quello Di legno Mi ha sempre messo Civili dentro E non li ha contati Come Come morti Spero che per questo Non sia Cioè Sia di Sia uguale Non sia Cioè Sia uguale Ecco Allora Vabbè Dicevamo Allora Eventualmente Adesso il travestimento Ce l'ho Qui di samurai Non ce ne sono Neanche Quindi Indossiamolo Pure Ho ripreso Shuriken Sì Riprendiamo Il nostro Uomo E riuniamoci Un attimo Qua Perché adesso Con il Travestimento Di certo Diventiamo Passiamo Molto più Inosservati E vediamo Un attimo Possiamo Liberare La strada Vediamo Un po' Vediamo Vediamo un po' Come una man scoperta Intanto Allora Eh sì È la nostra occasione Sì È la nostra occasione Sì Anche se Aspetta un attimo Quasi Quasi Visto che ho Il travestimento Oddio Sarebbe Eh portare Takuma Qua Poi però Bisogna Aiko può Mescolare La pozione Tranquillante Di Takuma Nel sake Ah quindi Aiko Verrebbe Qua Ma si addormenterebbero Chi Questi Presumo Questi Non quelli Qua Non credo Solo questi qua Tutti questi Di questa zona E quindi potrei Passare a piedi Poi Anziché Prendere il casetto Da questa entrata Ci sto pensando Ci sto pensando Allora Aiko è qua Qua però C'è un samurai Che però Vediamo Possiamo Questi Aspetta Si guardano A vicenda Eh Un po' Anche qua Ce n'è Qua ce n'è Uno Eh no Si è visto Si è visto Si Ah guarda Qua c'è un passaggio Ok no C'è un passaggio Eh insomma Un bel dilemma Eh perché Forse Quel carretto Facciamo Prima Cioè Entriamo Direttamente E Sbocchiamo Qua Però Col sake Forse Sicuro Non saprei Proprio Spera che salvo Allora Come possiamo Intanto Dobbiamo Comunque Passare Di qua Come possiamo Come possiamo Fare Questi nonostante La luce Non vedono Mi sa Oppure Ah no Perché c'era il carro Davanti Ok No no Però in questo Fami fare Una prova Vieni qua Perché se spegniamo La torcia Di sicuro Questi se ne accorgono Però Essendo fissi Andiamo Aspetta Che ora Arriva il samurai Quello ci vede bene Dov'è Spegner La torcia Dicono Oddio 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 Però alla fine Eh Allora Avanziamo Una Vediamo Che altro Voglio vedere se Il samurai Dice qualcosa Non lo so Non lo so Che potrei Usare la tecnica Del sasso Gli distraggo un attimo Ora a vedere Ah no L'ha vista L'altro Aspetta un attimo Andiamo Un attimo Un attimo Eh L'ha vista Questo Aspetta un attimo Devo forse agire Un attimo In fretta Vediamo Abbassati però Perché prima Prima ha funzionato Prima ha funzionato Cos'è Aspetta un attimo Facciamo Ok Infatti Prima Abbiamo detto Proviamo Ah Non ci sono Distratti No No Insieme Aspetta 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 Ok Aspetta un attimo Prima 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 Proprio avanti No Ah mi ha visto Quello lì Che stupido Sono andato Proprio davanti Aspetta Ok Aspetta Stiamo 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 Qua Stimiamoci Qua Quasi tutte e due Eh No Non ho fatto Un tempo No No Mi sa che Una tecnica Guarda che Molto rischiosa Però Non va Bene Non va Bene Ma no, che stupido, aspetta un attimo Dunque, possiamo fare Anche così Questo Io mi metto tipo qua Però non vorrei magari Vedesse lui, eh Vabbè Mettiamolo qua Aspetta Takuma lo spostiamo Qua dietro, secondo me è nascosto Aspetta Ecco, fa più nascosto, eh Ok Aiko può stare anche lì Io direi Ok Fare così quando lui Ecco Perfetto Vai a riprendere Lo shurike Ok Oh, e lui l'abbiamo tolto di mezzo Perfetto Adesso Sono quei due Da eliminare Però Però magari anche no Perché se io Appunto Non Lascio perdere la storia del Carretto Io non devo andare qua La via adesso ce l'ho Diciamo libera Anche se adesso C'è la torcia Però sì Abbiamo visto che si può Spegnere Per un po' di tempo Quindi io posso Passare Posso fruttare Quel momento per passare Però E però Passare Vabbè sì passare Possiamo passare Sì sì Ok Però stavo pensando Qua Piuttosto Qua è un po' un problema Come possiamo fare Beh intanto posso Mandare avanti Vedere un attimo Ma no Qua è tutto visibile Proprio Tutto visibile Posso mandare avanti A Ico Ma lei Qua non ha problemi Problemi ce li ha Con i samurai Che Ah eccolo là Allora Corriamo Aspetta Sta tornando indietro Corriamo qui Corriamo qui Mamma mia Vai Fuori 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 Ok 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 Allora Perché A Ico Può Distrarre Ok Può distrarre Qualcuno Potremmo distrarre lui Così Quello lì È visto solo da questo Che però Appunto non lo vede sempre Però mi serve L'aiuto Di qualcun altro Di qualcun altro Di qualcun altro E finché E finché questa non si spegne Un po' un problema In effetti Allora torniamo indietro Eh sì Perché lei è l'unica Che può farlo Possiamo fare come abbiamo fatto prima La spengo Poi vado Aspetta Fammi vedere Spero posso passare Qua dietro Anche se non lo so Eh ci devo provare Aspetta Eh cavolo Hai una vista Ok andiamo Andiamo qua La spegniamo Aspetta eh Ah guarda Mi va bene Che questo si è appena girato Allora Aspetta No Mi ha visto Devo riprovare Aspetta un attimo Aspettiamo un attimo Ok Ok Usciamo dalla Dall'area No mi ha visto Cavaca Aspetta 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 Ah lì ok Eh no Non ho fatto in tempo No allora devo fare così Devo fare così Aspetta Devo andare No Perché ho fatto il doppio click Madonna Devo Spegnerla Mi abbasso Vado qua Vado qua Che sono fuori portata Mi cambio Ok E poi ripasso Aspetta ripasso però E così vediamo se per caso Lui Vede che la torcia è spenta Forse no eh No infatti Meno male Solo questo la vede La riaccenderà Ok Ok Andiamo là Perfetto Allora Intanto che Spetta Bisogna passare di qua Però Santo No chi ma Oddio M'ha visto Aspetta Aspetta Eh sì Sono un problema Effettivamente Se non ci fossero Sarebbe meglio Però Ma si guardano a vicenda Giusto per No Quasi Quasi Ho un'idea Aspetta Aspetta Fammi fare una prova Perché ho notato Che Vediamo Eh però Devo essere molto Veloce Perché questo lo guarda Fammi fare Solo una Una prova Vediamo Magari fallisco Eh infatti Infatti Perché è visto Da questo Che a loro volta È visto Da questo Eh no È un po' Un problema Essere rap Ma guarda che si è fissato Ok Ma guarda che culo Cosa 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 M'è capitato Portalo via Portalo via Vai vai E Mitsu È uno in meno Così è uno in meno E questo Non vede qua Quindi a posto Eh sapete cosa Possiamo fare Che è un'altra cosa Trasformati Vestiti Anche un'altra cosa Aspetta Stessa cosa di prima Ok Ok Aspetta Mi cambio Ok lui Parlotta Guarda devo andare Qua Ok Ah però Eh quando parla Però lui è proprio Si vede proprio No Non posso farlo L'altro Era coperto Ma lui no Lui no Allora Aspetta un attimo Ah no No adesso vede Vede la La cosa Palle Che è questo Sei proprio Guarda Palloso Aspetta Perché mi ha seguito Fino qua Questo Ok Dicevamo Io vado qua Aiato Dobbiamo essere veloci Vediamo eh Ci arriviamo Dai Porca vacca Guarda No Aspetta 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 Eh vede la torcia Finchè c'è lui Non possiamo fare nulla Benedizione Perché se poi uso la torcia Per attirare tutti gli altri Ma voglia Torna qui Salviamo Con Aiato Devo sfruttare il fatto del sasso Fare in modo No Pazzarola Che cavolo guarda poi Lui No Questo No Ah quello là Quello là Aspetta Aspetta Così Ok A posto Aiato Mandalo via Per favore Ok Lui Cazzo Eh come faccio A prenderlo Eh Ma potrebbe Vederlo In due Addirittura Eh ma lo vedono Aspetta Eh ma in due No però Dai Madonna Eh Hai visto No aspetta Devo ragionare meglio Devo ragionare meglio Piano va bene Ah no Vedi che però lui Sì lui deve sparire Lui deve sparire Allora abbiamo detto Poi Così Aspetta Così Ehm Vai 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 Speriamo in bene Sì Sì Vai Ok Aiato Torna qua Per favore Prima che qualcuno Vede Adesso Adesso No ma in due No Aspetta eh Ok Oh Perfetto Le guardie non ci sono più Adesso Madonna No No Che palle Ma dai Perché c'erano delle impronte Maledizione Ma guardate che sfiga Era tutto bene Riproviamo Questa torcia maledetta Allora Aspetta No era così Ok 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 Prendilo Poi Così Ok Vai 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 Che non Se ne Accordo Vai Che non Se ne Accordo Adesso Sai cosa Facciamo Portiamo Qui Vai Vai Qui Facciamo Così E vai Qua Ok 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 No adesso Le impronte dovrebbero sparire Infatti Ce l'abbiamo fatta Mamma mia Ok Adesso Nenuno noterà la torcia Sicuramente E quello sparirà Visto che qua Non è visto da nessuno No eh Eh ma che cavolo Però Possibile In due Dai Fa niente Fa niente Dai Anche se ne accolgo Non fa niente Importante È aver eliminato Quei due lì Così adesso posso Passare Con tutti Praticamente Che questo Questa discesa Non è più vista Da nessuno Ok Non è più vista Non è più vista